Mancano poco meno di 24 ore al grande giorno con il piace pronto a prendersi la scena nella gara d'esordio di un campionato a lungo posticipato. L'attesa iniziava veramente a logorare e così, domani sera alle 20.30 sul prato dello Stadio Garelli, i biancorossi scenderanno in campo contro il Pontedera, match valevole per la seconda giornata di Serie C, dopo che domenica scorsa i ragazzi di Franzini hanno dovuto posticipare la sfida d'apertura contro la Provercelli, rinviata a causa delle note vicende extracalcistiche che stanno attanagliando il mondo del pallone di terza serie. Scongiurato dunque il rischio di una condizione atletica non ottimale, fondamentale si rivelerà la mentalità con la quale i biancorossi molleranno gli ormeggi. Partita complicata la sarà sicuramente perché il Pontedera è una squadra che ormai da tantissimi anni fa questa categoria, una squadra ostica, una squadra che si chiude bene, soprattutto fuori casa e gioca sul ritmo, sull'agonismo, quindi sono quelle squadre che battle è sempre complicato, però insomma siamo a casa nostra, siamo alla prima, vogliamo partire bene per darci autostima, per darci fiducia, per caricare un po' tutto quello che dobbiamo caricare attorno a noi. Quasi scontato il 4-3-3, con Romero unica punta, pesenti e infatti squalificato, sostenuto ai fianchi da Sestu e di Molfetta, con Fedato e Silla pronti a subentrare. Chiavi del centrocampo, affidate a Nicco con Marotta e Della Latta a completare il terzetto mediano. In difesa non ce la fa Silva, Bertoncini e Pergreffi, con ai lati Mulas e Barlocco, faranno da guardia Fumagalli.